Buongiorno a tutti, io comincerei il mio intervento non eludendo quelli che sono gli argomenti che ha proposto Beppe Croce ma con il messaggio del Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani che ha inviato oggi alla conferenza energia distribuita e protagonismo dei cittadini, enti locali e pubblico e piccole e medie imprese per un modello energetico siciliano. Il messaggio è estremamente lungo, di 16 pagine noi abbiamo fatto una piccola sintesi e leggeremo qua quelli che sono gli aspetti più importanti collegati all'energia e all'energia distribuita, poi il documento si allunga su altri temi e argomenti della Commissione importanti perché il documento è un piano di crescita per il sud intitolato, quindi la logica è l'energia, uno dei punti principali, importanti di sviluppo per la crescita e lo sviluppo nel sud. Vi leggo la breve sintesi, il messaggio inizia ricordando i numeri della crisi, un meno 2.6 di pilli in Italia nel secondo trimestre 2012, meno 6% al sud negli ultimi anni, mille posti persi ogni giorno, 464 mila posti persi in Italia dall'inizio della crisi, ben 324 mila sono nel sud, tasso di soccupazione ha raggiunto il 10,7%, 50% dei giovani al sud. Un giovane su tre non trova lavoro, 2,7 milioni senza lavoro ora a luglio 2012. Questi dati descrivono una vera e propria emergenza sociale che per essere affrontata necessita un vero e proprio cambiamento di rotta, verso quella che il Vice Presidente Tajani definisce una vera e propria nuova rivoluzione industriale, capace di valorizzare al massimo le risorse del territorio. Questa nuova rivoluzione industriale presuppone oltre all'aduzione di tecnologie di punta, quali nanotecnologie, biometria, fotonica, sulle quali la ricerca è ancora in corso e di cui bisogna accelerare l'arrivo sul mercato, anche la modernizzazione delle infrastrutture. Considerata la posizione periferica, ma anche strategica, al centro del Mediterraneo, il sud ha dotazioni per trasporti, comunicazione o energia ben al di sotto della media italiana. Grandi margini di crescita sono nelle infrastrutture energetiche, in particolare quelle relative all'energia rinnovata. Lo sviluppo di infrastrutture energetiche per il gas o la trasmissione intelligente di elettricità è essenziale per aumentare concorrenza e sicurezza di approvvigionamento e valorizzare la produzione di rinnovabili, di cui il sud già produce il 35% da solare, il 32% da biomassa e il 98% da eolio. Negli ultimi dieci anni il settore delle rinnovabili ha avuto uno sviluppo spettacolare, con tassi di crescita del solare e dell'eolico del 30-50% l'anno. Settori emergenti, quali miniedro elettrico, solare a concentrazione, nuove biomasse o biocarburanti, stanno attirando ingenti investimenti e creando nuova occupazione e figure professionali. In particolare, il solare termodinamico rappresenta una grande opportunità per regioni come la Sicilia, con livelli di insolazione particolarmente alti e dove già sono stati realizzati i primi impianti dimostrativi. Inoltre, vanno modernizzate anche le infrastrutture urbane e abitative. Il 40% dell'energia viene consumata negli edifici. La nuova edilizia dovrà, anche in linea con gli obblighi della Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, essere molto più sostenibile e sicura. Attuando la Direttiva si possono creare 500.000 nuovi posti con un risparmio annuo di 5 miliardi sulla bolletta. A luglio ho presentato la strategia Costruzioni 2020, che punta sull'innovazione nella concezione degli edifici nei materiali edili e apparecchi tecnici. Nel Sud le opportunità di investimento e creazione di nuovo lavoro nel settore delle costruzioni sono enormi e utilizzando fondi europei e della Banca Europea di investimenti si potrebbe sostenere un piano di riconversione dell'edilizia più efficiente e sicura, che potrebbe ripagarsi con risparmi sulla fattura energetica. Inoltre, ricorda Tajani, i fondi regionali non spesi potrebbero essere usati anche per realizzare progetti di banda larga o smart grid con potenziale alta redditività. Infine, vanno adeguate le infrastrutture turistiche per contribuire al rilancio di questo, che Tajani considera un asset fondamentale per le regioni del Sud. Ma serve una politica di modernizzazione che consideri il turismo un vero e proprio settore industriale e sfrutti al massimo le nuove tecnologie energetiche rispettose dell'ambiente. E su questi assi strategici prosegue il Commissario europeo all'industria, che vanno fissate le priorità per il recupero di fondi strutturali europei a rischio. Dei circa 36 miliardi di fondi regionali destinati al Sud nella programmazione 2007-2013, analizza Tajani, ne sono stati impegnati 50% e pagati 21%, a fronte di una media europea dell'83% di impegni e del 48% di pagamenti. A 15 mesi dalla conclusione del programma, alcune regioni rischiano seriamente di perdere centinaia di milioni che ritornerebbero nel bilancio comunitario. Poiché nel mezzo della crisi e in pieno negoziato sulla nuova programmazione 2014-2020, davvero l'Italia non può permetterselo. Tajani insiste perché i fondi disponibili vengano concentrati su poche azioni ben individuate che facciano da volano, anche al di là delle misure di riprogrammazione in corso promosse dal suo collega Anne insieme al Ministro Barca e ad alcune regioni. Il messaggio, come vi dicevo, del Commissario Contino su altri aspetti importanti della strategia europea con l'obiettivo del rilancio della crescita del Sud. Naturalmente tutto il documento inviato dal Commissario europeo Tajani sarà a disposizione dei giornalisti e avremo modo di spedirlo a tutti i partecipanti al convegno, all'iniziativa, quindi avrete modo di leggere il testo per intero. Questa lettura del messaggio adesso ripasso un po' invece a quelle che erano le motivazioni del mio intervento, quelle che erano le richieste del moderatore. Devo dire che la lettura del messaggio di Tajani un po' aiuta e anzi centra pieno un po' le discussioni che abbiamo oggi da mettere in campo. Alcune sono delle iniziative concrete che vanno proprio nella stessa direzione che indica il Commissario Tajani e anzi facciamo delle proposte proprio specifiche di merito, avete avuto modo di vedere, l'abbiamo messo già fra la documentazione. Abbiamo una proposta di rimodulazione dei fondi europei non spesi in Sicilia che prevedono una infrastrutturazione energetica, quindi soldi da spendere per progetti semplici e veloci da spendere entro il 2015. Oggi noi la presentiamo, la invieremo al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, sperando che, visto che siamo in una fase di rimodulazione dei fondi, una fase che dovrebbe essere completata a dicembre di quest'anno con l'apporto della Commissione europea, pensiamo che sia un apporto, un contributo importante rispetto a questo scenario. Naturalmente su questo l'intervento successivo, quello di Angelo Conzo del circolo europeo della terza rivoluzione industriale, entrerà più nel merito di questa proposta. Il mio intervento invece si limiterà a parlarvi di quella che è la nascita, la costituzione del freddo e da quelli che sono gli obiettivi fondamentali che abbiamo raccolto in un decalogo, quindi in dieci punti per noi importanti e rilevanti perché si costruisca in Sicilia un uomo dell'energetico siciliano basato sull'energia distribuita, un'energia distribuita e interattiva. Questo decalogo noi proponiamo di sottoscriverlo a tutti i soggetti, a tutti i cittadini, abbiamo fatto richiesta di sottoscrizione di questo decalogo anche ai candidati alla Presidenza della Regione come impegno rispetto alla loro azione politica, lo chiamiamo un patto per l'energia e il lavoro, vi chiediamo a tutti di sottoscriverlo. Io adesso ne approfondirò i temi essenziali, principali, le linee guida che ci hanno diretto rispetto a questa cosa, ma comincio prima di tutto da una breve cronistoria di quello che è il FRED, di come è nato il FRED. Il FRED è nato il 14 ottobre del 2010, ad essere così precisi e pignoli, su invito in particolare della CGL e del circolo europeo per la terza rivoluzione industriale, il circolo che è collegato, in particolare del Presidente Angelo Consoli, il circolo che è collegato all'economista americano Jeremy Rifki. Il forum ha un comitato scientifico fatto dall'Università di Palermo, dall'ex Dream, allora si chiamava Dream, adesso è diventato Dipartimento di Energia, dall'Enea siciliana, dall'Enea di Palermo e dal CNR ITAE di Messina. Salutiamo il Presidente Castiglione. Quindi vi parlavo del comitato scientifico inserito all'interno del forum regionale per l'energia distribuita. Al forum hanno aderito moltissime associazioni territoriali, l'ANCE, la CIA, il CNA, Confartigianato, le associazioni della cooperazione, Lega Coop, Confederative, Fedacri, dei consumatori, ANTER, Federconsumatori, Lega dei consumatori, Leggo per evitare di dimenticare qualcuno, che tra l'altro molti di quali sono qui e oggi pomeriggio interverranno, sono già in aula, sono presenti in aula e pomeriggio interverranno, la UIL, l'Osservatorio del Mediterraneo per la Sostenibilità Ambientale ed Energetica, il Ripaghi Legranti, l'Associazione Casa Eco Passiva Sicilia e l'Ecambiente Sicilia, che qui è presente con il Presidente Mico Fontano. Il forum nasce da un'esistenza importante, noi avevamo salutato positivamente la nascita del nuovo piano energetico regionale siciliano nel marzo del 2009, ricordo che il piano fu fatto in collaborazione con Jeremy Rifkin e con Angelo Consoli che lo rappresentava, dentro di sé aveva una prospettiva esplicitata, una prospettiva di cambio del sistema energetico dal fossile al solare, era questo l'obiettivo finale di questo piano energetico, si parlava di un processo di trasformazione, di radicalizzazione, si mettevano in campo alcune delle iniziative che poi noi riteniamo importantissime per fare nascere questo nuovo modello energetico siciliano, ma dobbiamo dire che da quella data, dalla presentazione del piano non c'è stato nessun piano d'azione concreto, reale da parte della regione rispetto a questo obiettivo scritto ma purtroppo non praticato fino in fondo, per cui abbiamo pensato, la nostra idea era quella di sostenere questa rivoluzione industriale che è già in atto nella nostra regione, ricordo a tutti che in alcune giornate, anche se estive, la regione siciliana viene gestita la produzione di energia solare o comunque da energie e da fonti rinnovabili basta per la produzione in Sicilia, quindi è diventata una realtà importante, ma per farlo diventare nuovo modello energetico occorre creare intorno a queste fonti rinnovabili un sistema complessivo che è basato su sistemi di accumulo e rete intelligente che consente effettivamente di cambiare modello energetico. Da qui la necessità di queste associazioni di partire dal basso di promuovere proposte, nel corso di questi due anni abbiamo fatto diverse proposte, non sempre accolte, non sempre accettate, che sono poi la base fondamentale del nostro decalogo. Il decalogo parte da un'affermazione di principio importantissima, il sole è una risorsa di siciliani e questa risorsa dei siciliani va ridistribuita a tutti i cittadini siciliani. Da qui la necessità di creare informazione ai cittadini su questi aspetti, da qui la necessità di utilizzare i fondi pubblici di investimento e gli investimenti previsti in funzione di sviluppare da una parte un maggior reddito alle famiglie attraverso il fatto che si costruiscono degli impianti di energie rinnovabili nei loro tetti e possono soffrire degli incentivi. Qui avevamo chiesto in particolar modo una questione importantissima, che in effetti il governo Lombardo, nato dalle cose, l'assemblea regionale aveva effettivamente approvato una legge che consentiva di avere dei contributi per le famiglie e le piccole e medie imprese, che poteva rilanciare anche tutto il settore dell'economia siciliana e delle imprese siciliane, che è fondamentalmente basato su queste piccole e medie imprese, esisteva un fondo, era stato stabilito di costruire un fondo rotativo che consentisse alle famiglie e alle piccole e medie imprese di accedere a un prestito che gli consentiva di impiantare un impianto di energie rinnovabili. Questa normativa approvata nel 2010, nella finanziaria del 2010, purtroppo non ha avuto seguito e il governo Lombardo si è dimenticato di applicarla, di fare la direttiva conseguente, il decreto presidenziale conseguente, quindi purtroppo quello che è avvenuto poi alla fine è che questa possibilità che veniva dagli incentivi, dai tetti del fotovoltaico, sono stati soprattutto non date alle famiglie, alle piccole e medie imprese, ma molto spesso da grandi imprese, spesso non siciliane, che si sono accaparate gran parte del mercato. E' un'altra questione importantissima che chiedevamo al governo regionale, che poi è uno degli elementi fondamentali del decalogo e quello di aver chiesto anche la sburocratizzazione del processo dell'Iter, che è stato un altro degli elementi fondamentali di blocco del sistema dell'energia. Faccio sempre un esempio molto importantissimo, l'ex presidente Lombardo si è presentando dicendo che era contro l'eolico e che avrebbe lanciato il mineolico nella nostra regione, dopodiché si è dimenticato che nel regolamento attuativo ha creato un sistema per cui il mineolico in Sicilia non si può costruire. Quindi da una parte si enuncia, dall'altro si blocca, dall'altro si dice che bisogna sviluppare questo settale, dall'altro si fanno delle regole estremamente complicate e spesso anche sbagliate dal punto di vista tecnico, che di fatto hanno bloccato questo sviluppo, questa potenzialità nella regione che è enorme, la Sicilia ha la maggiore insoluzione della regione, è una regione anche con una grande popolazione, è la regione più grande come popolazione d'Italia, quindi il potenziale di sviluppo è notevole e sostanziale. Quindi la nostra visione naturalmente è una visione, come potete capire già da questi primi principi del decalogo che si basa, per noi cambiare modello energetico significa cambiare modello di sviluppo, per noi cambiare modello di sviluppo energetico significa non semplicemente sostituire un sistema basato sul fossile a un altro basato sull'energia rinnovabile, ma creare un meccanismo di maggiore democrazia, di sviluppo di un'economia delle imprese del sud e di creare un sistema di distribuzione di ricchezza di cittadini attraverso gli investimenti, gli incentivi, ma soprattutto attraverso nuova occupazione. Non a caso vi dicevo io nel decalogo noi proponiamo questo patto, a cominciare dai candidati alla presenza della regione, un patto per l'energia e per il lavoro, perché è l'elemento fondamentale, soprattutto in un periodo di crisi economica abbastanza complicata, abbastanza complessa, oggi sentivo i dati di previsione di crisi anche per il 2013, si riparla di ripresa già dal 2014, cominciano già a cambiare anche le previsioni rispetto a questa tematica. In questo momento è importantissimo tutto ciò che viene dal settore della green economy potrebbe essere un elemento importante da cui l'energia da fonti rinnovabili, l'energia distribuita potrebbe essere un elemento estremamente importantissimo. Quindi importanza alle famiglie, importanza alle piccole e medie imprese, energie rinnovabili ma soprattutto anche efficienza energetica, perché anche questo è un altro elemento estremamente importantissimo. Importantissimo è anche la costruzione di edifici, ne parlava nella sua lettera anche Tajani, è l'ultimo documento fatto da questo punto di vista è estremamente esemplare, è un potenziale enorme, importantissimo anche in una regione che costruisce malissimo le proprie case e che quindi da questo si può nascere davvero un elemento di ricchezza, di sviluppo e di nuova occupazione estremamente importante per la nostra regione. Quindi però oltre allo sviluppare energia rinnovabile ed efficienza energetica occorre completare l'insieme dei pilastri, l'insieme dei pilastri significa creare prima di tutto dei sistemi di accumulo importanti, molto spesso abbiamo una produzione di energia da fonti rinnovabili che la rete non è in grado di ricevere per problematiche sue, per costruzione è una rete antiquata, è la peggiore d'Italia, purtroppo i dati confermano la qualità di questa rete, è in più talmente antiquata che non riesce da questo punto di vista a regolare, quindi i sistemi di accumulo sono estremamente importantissimi perché potremmo accumulare l'energia prodotta che la rete non riesce a fare per poi ridistribuirla in certi periodi, considerando che soprattutto di giorno ormai è una energia importantissima da distribuire, e poi reti intelligenti, un sistema di reti intelligenti significa cambiare modello energetico perché il sistema energetico è basato su grandi centrali e grandi reti di trasporto che conducono l'energia da un punto all'altro, il fatto di avere produzione diffusa nel territorio più punti di produzione, piccola e media, naturalmente obbliga a cambiare il tipo di reti, le reti devono essere in grado di ricevere e mandare, quindi non avere un'unica direzione di trasporto ma avere una bidirezione in grado di gestire i vari flussi in base alla necessità. Tutto questo per noi è il nuovo mitello di energia che creerà sviluppo nella nostra regione, questo insieme ad altri settori importanti naturalmente della green economy, noi siamo concentrati in particolare, fa bene Tajani anche nel suo ragionamento ad allargare la discussione rispetto alle altre cose, però è questo il punto da cui noi partiamo per rilanciare la nostra proposta per rilanciare l'economia in Sicilia e per creare un modello che sia più equo anche per i cittadini siciliani. Vi dicevo questo, avete già tutti avuto il modello, il decalogo, questi sono i punti essenziali, li ho linkati brevemente, anche perché siamo già in ritardo rispetto alla questione. Rilancio la sottoscrizione del decalogo in questo patto per l'energia e il lavoro in Sicilia. Chiedo ad alcuni candidati, vedo alcuni esponenti dei candidati che sono presenti, c'è Giampiero Trizzino del Movimento 5 Stelle e altri con cui ho preso contatto di prendere in considerazione naturalmente questa proposta, avremo modo di discutere e di avere un patto. Nel sito metteremo la possibilità di accedere per sottoscrivere individualmente, chi vuole può sottoscriverlo anche al tavolo, successivamente appena avrà modo anche di leggerselo con più. Attenzione, questa è la questione che noi oggi lanciamo a questa iniziativa insieme alle proposte di rimodulazione dei fondi europei che vi dicevo poi Angelo a seguire su questa materia entrerà più nello specifico. Sono un po' però le materie che vi ho elencato di carattere generale prevedendo proprio dei progetti specifici e degli interventi specifici su questa materia. Grazie. Grazie.